soprattutto per un insegnamento che mi diede il mitico Pietro Aradori me l'ha insegnata quando lui aveva 14-15 anni quindi già era un po' più vecchiotto di noi aveva più esperienza di noi classe 88 salutiamo Pietro, ciao Pietro che inviteremo presto nel podcast praticamente lui diceva ma scusa perché io devo provare a schiacciare o entrare in area che prendi botte ma scusa io faccio meno strada e faccio un punto in più che è un'ottima filosofia è un'ottima filosofia